A conferenze stiamo praticamente iniziando a utilizzare quello che è lo strumento del futuro che ci permette di digitalizzare la bocca del paziente. E' uno scanner intraorale, ci consente di avere al computer quella che è la bocca dei nostri pazienti, poter inviare a distanza anche dall'altra parte del mondo la bocca digitalizzata del paziente in un centro produzione magari che si trova all'altra parte del mondo oppure dall'Italia ci possono inviare le situazioni delle bocche dei pazienti e noi le possiamo produrre qua in Moldavia ai nostri laboratori. Questo è il futuro, molti lo stanno iniziando a usare questo tipo di lavorazione in diverse parti del mondo, noi siamo pionieri qua in Moldavia, benvenuti nell'era digitale. L'anno prossimo ne vedremo delle belle. Questi sono i denti che andiamo a montare per simulare le riabilitazioni complete.